musica vinciamo la più easy in realtà giocano più forti qua così tipo il video che visto che oggi vinciamo la coppa no se fa tante view quindi andre cammolo bene questo video voglio comprare le caracola difendere anche dietro sai che voglia che c'è io mi soltava lascia stare mi soltava me non me ne frega un cazzo io vado dritto con questo di quando non perdo palla ok questo è il coso volete che ciò mentre il tiro a giro con forza step in porta la montagna chiamano la montagna che assist di che vi nasagna sono pure mancino ma ma sto gioco minchia sto gioco ce lo ricordiamo leo dai vai leo corri eh sì ma i palloni miguelitto a incrociare tanto dove sempre col quest'anno ma la casa notteva tiziano tiziano se tu premi il doppio cerchio quindi doppia volta il tiro è sempre colpa ti fa tiro raso bene non è che sono così imbottato ci sono bravo dovevo impiegli all'esterno lo faccio la seconda punta a fianco a stai guarda quindi hai idea nooo è un quarto triangolo ha fatto controlli in più sto imbottato correndo t'ha detto prima ma che cazzo dici t'ha detto prima vabbè ma non me ne frega un cazzo che l'ha detto prima non funziona così un gioco di calcio ma e vaffan 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 eh certo preme cerchio direzione all'incrocio gol e tu invece prendi palla guarda 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 vaffan e tu perdi palla invece è tanto da parlare eh pensa molto difficile per me che sono difensore difendere gli attaccanti quelli forti competitivi cazzo ma è bestemmi tanto pure stai a film fai schifo a sto gioco ma 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 sempre a lui ma vaffanculo che me la toglie me la toglie me la toglie direzione alla bene però ah lui hai colpito la colpita leo ah ecco perchè la sorta e tu me l'hai rubato guarda che andava in porta quella ecco perchè io ho tutti così ma steffy ma perchè non hai seguito il fuoricioco perchè tu devi dirmi andrea faccio la trappola ma non l'ho letto in tempo boiade io ti voglio bene steffy ma non l'ho ma che coglio adesso bisogna vedere è colpa mia per forza eh beh che pollo madonna ma ma sai di della situa leo la passa madonna leonarda no leo per somando a sì dentro ma perché non impari a giocare a sto gioco madonna ma se sei che hai detto non ti chiami sempre che ta' li dentro ma vedi che non ti chiami più in cazzo ti impara a giocare a sto gioco una volta per tutte va dai tocco guarda come imparo gol fatto tre gol uguali questo cazzo di stefio ragazze manco manco ibrahim peter kraus lui c'è porca puttana via non so come che invece mettere un po meno l1 triangolo c'è un po di triangolo ha detto l1 triangolo fammi fare prima la skill sennò senza andrione volevo tirare io cazzo di fatto troppo per favore il poste foto in amica questo capo su 4 gol tutti da fuori aeree con un 2 metri c'è sono massimo la macchina comunque ti viene a difendere anche tu non faremo come un altro gol david luis o allora andrea che di lasagna lasagna ora che dietro ci serve a chris poeta il poeta lui è pieno ancora peggio ecco 1 a 0 però un video solo su stati possiamo non giocare ti dico solo questo ha fatto quattro gol prima di così adesso 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 di bric lui non bricca un tiro qua cecchino pure qua lo ripeto perché c'è stato sbagliato lo ripeto che non si sa mai no e perché troppo per favore sbagliato basta allunga steffi all'angolo non ci credo a che morto bello che steffi e dalla bravo guarda andrea andreone gli anni che crosta con l'uomo dava a fallo ricordi che culo sono fortissimo questo prima ma sono tornato il coppio inutile della storia male che l'ha fatto il pallo ma fate parlare steffi non lo sento sennò prima detto dico ho visto che hai fatto tutto quello lì ma devi ricrossarla ma poi le vado a dipendere ma sono già tanto che sa fare del passaggio l'hai guadagnato tu tira guarda 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 come ti come fuori beh dopo anni di video studio guardati per imparare a giocare a studio 8 come sai zitto sono bellissimo guarda che negro biondo negro biondo con i capelli dischi perché sono tutti tutti e una parrucca è bottuta di passare in mezzo ma andrà già in mezzo vabbè ovviamente gol ma ogni tira il gol con sto tipo cioè da fuori hai capito tutti i cazzo di tiri se ne sbagli uno ma lo segno 92 cristo livello massimo c'è come essere 99 sui mili ormai so fare solo quello non so fare solo quello tipo adesso ma io so fare rotte gol visto mamma mia 4 a 0 guarda che ballo basta che azione che pallone che visione sono tanto le palle che diventerete compitivore voi dai dai andiamo 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 ci fomentiamo io forse neanche mi sa aia io lo compro solo se sto video se vinciamo la coppa e se sto video fa più di 100 più pare che è bagatissimo questo altro 2 metri con le skin scherzi puoi il gioco bravo imparata ehi la è come un polivalente con le cose bagate dai lì sì quello che mi metti il palleggio in cui zompa da una patata del campo Montoya Montoya giocata a Barcellona non ti monto 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 che non ho quitata fatevi la vita io posso richiamare te ma ho paura di premere quel tempo ma perchè non mi vuoi dare la palla cosa ti ho fatto di male maresca ti prego no no maresca ai tempi del catani potrà forte beppe maresca la classe del fantaca gol gol eh si stefi facciamo il 5 a 2 per piacere tu che sei eh io la palla ve l'ho data se uno tira dall'angolo l'altro tira da dove vuole io non si vede faccio prima a me non ho colpe sui passaggi si la chiede a Leo lille leo lille leo lille leo ma te l'ha data anche male direi era per te quella roba di ma io non ho chiesto dai fallo fai fallo fai fallo non in aria e ho capito premuto cerchio quello lì va avanti scuola l'avantesimo pareggiamo 4 a 4 ma io l'ho detto ma ho capito ma hai visto quello lì che come l'ha passato quel bot io non me ne ho fatto un cazzo hai fatto il pirla ho fatto il pirla quando? oh sì ho fatto il pirla prego palla pacco ho cristo ho cristo la palla lì mi sembrava non l'aveva passata la zota terapia ho premuto X e non quadrato a destra dai la pari porco ho premuto X e non quadrato e boh è la passuta alta che cazzo ci devo fare ma non era per la zoma fallo fallo tastiano per calci da dietro a ribendire oddio porco ma perchè dietro ma che cazzo le tiene quello madonna mia quanto è scriptato sto gioco non so che affare questa è la vera della rete cazzo le carriano e che è scrittato non è l'azione gioco che iscrivete scrivete la merda allora script del cazzo sto gioco di merda 4 goli ha fatto fare ho capito vabbè ho sbagliato se l'ado profonda ma prende matti un po' tappen anch'io se lo so che sono bravo il mattone situazione ha fatto solo con lui da quello di chi amici c'è te l'ho tipo una mina la mina di quella e vai il bello che capri ti ande sembra una lampadina che non troppo luminosi riflessione della pelle con luminosi proprio che manano luce per quello mi piace mai un biondo che non esistra mai non nemmeno oh mia ecco le tante prima vedete qua che adesso facciamo un balletto ragazzuoli anzi faccio un po' di muscoli ho un po' di porno cerchio 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 questo è un cerchio cerchio tutta la vita no guarda per schifo no 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 che ne passano sempre con lo scemo basta dare sempre a lui sì tira al giro gol bravo mamma mia ma leo perchè sei in attacco no ci sono una mezz'ora di inserimento dovevi dire dovevi dire faccio gli assist almeno è la più divertente sono ben assi ma perchè c'è un coggine che fa dritto ma io che sono entrato adesso che sono difensore in realtà ma no no fra che non è 92 dai noi non teniamo perchè ci insulti sei un dittatore merda no 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 tipo così guarda come gioca ma che cazzo ahahah ahahah me lo farò vedere stef cambia tutto mamma mia tefino non mi dava più che offese no chris ridammela darò leo secondo palo al volo tu si nu cornudio vabbè è buono la presa a Leo io volevo volevo fare teo fai così l2 le mette verso il basso no te la mi soltanto eh ma io dico l2 le mette verso il basso eh vai è felice ha fatto il pugnetto per perdere è fatto gol ma si tan 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 faccio io tan 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 che no migliori spagnoli che vabbè che vabbè che vabbè che vabbè che vabbè 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 1.98 una roba incredibile fai uscire il portiere fai uscire il triangolo triangolo premuto perché ha fatto la scivolata che botta perchè non ha fatto uscire il portiere ah vabbè certo fa uscire il portiere non si hai visto dai devi farlo primo quindi eh ho capito e quindi il botta ha fatto rossa e l'ho fatto farlo per noi bravo che ha scivolato un cogliere il bot riesce il portiere non scivolò eh vabbè ha gioco un po' rotto direi siamo anche stato difensore adesso devi cambiare un centrocampista metterlo in difesa dai a sinistra porco tio sotto entra sempre metti il ccs quello a sinistra c'è troppo il centro sinistra in difesa l'ho fatto 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 che palle madonna troia quel divise recente o magari il d il ciccino serie centrale che deve farlo dall'ultimo uomo rossa la quale che lo abri sul bischiettivo dai bravo botto bello siiii bel gol dai e così faccio l'offensiva ma più che altro boh ma me la fa incazzare con ogni cosa prega a me no bestia di dio la levetta di frecetta in giù raga veloci 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 e proviamo dai ma vai a crozzare vai a crozzare e pensavo meridasse così volevo andare in mezzo per un po' di destra e poi dai proviamo se non troviamo in quattro e mezzo vai 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 si si eh mamma eh mamma eh mamma ti dici il tramorto cani che stutato questo gioco ma ti dici l'hai presa di collo al volo ma che cazzo è ma lei che sostanzialmente vediamo con il fatto di non schifate che si vede tra coppia pappapia sotto tre o negli anni guarda che bella greppo pappapia sembra per la terra propria lasagna decici la coppa in 10 10 ma doni e 10 è bella potessi la questa animazione da 10 anni avremo negli anni dagli applausi a tutti dai e bravi ragazzi la persona c'è la coppa io c'è la coppa no la coppa la coppia ah tu sei capitano voglio stai cagando stai